Guardalo qua al mio mezzo di oggi. Salute! John è carichissimo, ragazzi! Nooo! Cari amici, sta succedendo davvero. Sto passando, cioè sto passando. Segnate questa data sul calendario perché oggi farò un'uscita con questa bici! Un enduro. Questa fantastica Transition Petrol. Com'è che si chiama? Patrol. Patrol. Però sento già i freni che lavorano perché quando facciamo dietro siete... Bene, perché oggi saliremo a Riella a cenare. Mangiamo su. Bello, eh? Speriamo non piova come ieri perché ieri ho piaciuto acqua dalla madonna e oggi danno tempo male tipo da adesso. Da, 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 adesso. Da, adesso. Da, adesso, dalle temporali. Non ho neanche i guanti, adesso che ci penso. Siamo ricongiunti anche con Johnny. Io sono partito. Bellissimo, eh? Peccato che abbiamo beccato subito il passaggio a livello. Da, adesso, iniziamo lo zoccolo per salire all'alto del Vicerè. Eh? Se parte... Abbiamo appena finito lo zoccolo. Adesso arriviamo alla salute. Dove ci aspettano Beppe e Dome. Oh, devo dire che in salita non mi è dispiaciuta questa bici. Se fosse della mia taglia giusta, ragionata, magari potrebbe anche essere meglio. Vabbè. Dome, guarda che siete. Eccoli! Grandi ragazzi. Com'è? Ciao Domi! Tu hai già trovato questa roba, che se la facevi prendevi le indure pure Johnny. Siamo quasi arrivati alla Mara. Anche ancora 3-4 rampe. Allora considerando che sto salendo con questo mezzo devo dire che non mi trovo male. Adesso aspetto Anto e Domi, poi riporto. Allora abbiamo deciso di fermarci la Mara, che comunque top. Brindisi con la birretta, salute. Non avevo preso Johnny. Johnny è in down oggi. Sono alla torta ma sto scoppiando. Anche Domi. Adesso dormo. Domani accendiamo quello di Roventa. Il pistolone. Cosa vuoi che sia responsabile questo qua? Il responsabile dei mobili. Salute! Ma tu hai messo il salsicciotto per farlo bagnare bene adesso che piove? No ma non colore però. Guarda che infatti. Guarda che ieri sai se ha... Sono due birre. Appunto. Gnp. Filma... Filma Beppe che fa lo scienziato pazzo. Mi sei compagno. Ho dato giusto per niente. Adesso con la legge giuliti che sta pericolositissimo. Come? Cosa succede? E' benzina. Buon presto ragazzi, grazie. Mi piace. Siamo pronti per la discesa. Ringraziamo ovviamente per l'ospitalità. Grazie. Magari se ci faccio una recensione. Certo. Guarda che qua sei già direttamente... Tutta la mità. Secca. Saluta YouTube. Filmi mandano anche i baci. Grazie mille. Grazie a te. Grazie mille. Si mangia bellissimo. Si mangia bellissimo. Si mangia bellissimo. Si mangia bellissimo. Grazie. È vero, è vero. Gli amari offerti benissimo. Questa roba. Che non basta. Ripartiamo per la discesa. Vai va più forte ancora. No, disaster. Mi è rotto. Come scendo senza luce io adesso che sei rotto? No, ma hai dei problemi eh. No dai, affrontiamo questi cinghiali dai. Ma dove vai John? È impazzito. Vengo a fare luce. Vieni a fare luce. Vieni a giocare. Ma non penso eh. No, adesso avranno sentito voi parlare e sono scappati. No, ho detto che si. Oh, giochiamo, giochiamo. Via, via. Ma voi come tornate ragazzi? A piedi. A piedi? A piedi. Sti sicuro di non consumare troppa batteria della torta? Eh, probabilmente si caricheranno prima di un quarto. Ma i vostri genitori ci sono? Sì. Tutti? Sì. Ma va che non c'entro più lì? Ma dentro dove? Mi ha lasciato qua. Lo lascio, lo lascio. Lo lascio. Lo lascio. Ciao ragazzi. Ciao. Iniziamo la discesa. Ma infatti per te. Johnny è già partito. Dio che botta. Guarda, guarda. Tutti matti. Tutti matti. Tutti incastre. Non sapevo che... Ma poi chi è Jonathan? Ma fatemi passare! Cazzo, qua al profondo! C'è questo il salto? Dove? Eh no, il salto. No, il salto. Oh, ti accasso! Oh! Ah, sì! È vero ad aspettarli. Che figliata! Figa E Johnny è partito a tutta Puttana Johnny come la fa andare Allora dove cazzo state scendendo Puttana Non fatemi fermare Tutto a posto Mi sono fermato io No no mi sei puntato Picchiato forte? Si però sulle braccia E dove è volato Con la poi vien giù a tuono Non è che ti lascia il tempo di respirare Eccolo Johnny mai visto così carico Infatti Non è mai una novità Ma la dove? Eh Dio buono avviso a cazzo E' sinistra Ma la sinistra Oh ma qui me lo finca Ma in fila 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 Cosa fa? Cosa fa? Cosa fa? Guardalo 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 In manual quasi A tristura Oh Che caldo raga Oh dovevamo prendere l'acqua L'abbiamo preso una goccia Top Mamma mia che caldo Ciao Ciao Anto lo sai che mi devi aprire il cancello Perché devo prendere il macchino Ciao Ciao raga Ciao Ma tu vai a casa a piedi Hai bici Taglio dall'ambrone Sono già merone Ti do uno strappo io Taglio dal campi Dal campi Non avevo mai visto così lanciato No E' continuato Finito raga Finito Anche il giro di oggi è finito Quindi grazie per averlo visto Se vi è piaciuto questa follia Mettete un mi piace Iscrivetevi al canale E attivate la campanella Ormai questi occhiali fanno la storia Ci vediamo alla prossima Ciao